Salve a tutti, uocikebari e benvenuti su Five Nights at Freddy's 3 per Nintendo Switch! I primi quattro giochi della saga di FNAF sono arrivati su Nintendo Switch. Sono gasatissimo, c'è, cavolo eh, finalmente Five Nights at Freddy's su console, mamma mia, ok. Ah ok, gente, oh sentite bene, con il pulsante Y, ripeto, Y, mutate il Fongi. Allora, vediamo un attimo, L per questo, ok. Ok, ancora L per le telecamere. Oh mio Dio, adesso c'è molta più movimentazione, cioè guardate, tanta roba gente. Allora, play audio, minchia. Ok, X per i condotti. Beh, ok, sembra più semplice di, come si chiama dell'originale, giusto? Ma per il naso di Freddy, quello che fa, eh, Bip Bip, c'è un pulsante o no? Sto premendo. Scusa? L'ho sentito? Vabbè, eh, penso che ci sia. Torniamo nelle telecamere. Come ben sappiamo, raga, qua. Non viene il nostro caro amico con io marcio, non c'è. No, raga, cioè, è una cosa stupenda. Cioè, ci sto giocando sulla TV, raga. Cioè, è tanta roba, non so, cioè, cos'è, non ci credete? Raga, raga, Nintendo Switch. E penso che sia uscito anche per PlayStation, Xbox, potrebbe essere, eh. Cioè, è tanta roba sul serio. Siamo alle 3 del mattino, eh. Vediamo un attimo se il caricamento è sempre lento come nel vecchio. No, no, ragazzi, no. È forse più veloce, potrebbe essere, eh. Non ne ho idea. Ok, il costo, ecco, è di 7 euro. Sì, sì, tutti i giochi, quindi, FNAF 1, 2, 3 e 4 costano 7 euro. 6,99, è fatto, fine. Aspetta che chiudiamo questo, va. Oddio. Non lo so, raga, come saranno i jumpscare, raga. Oh mio Dio, oh mio Dio, sul serio. Raga, l'accetto ai bonni. Già, beh, oh. In realtà preferivo di più una grafica migliorata, ma... Allora, vediamo un attimo, ragazzi, cosa possiamo fare qua. Vediamo, eh. Ci muoviamo velocissimi, peggio di Sonic. O Foxy, guarda, c'è qua la testa di Foxy. E abbiamo finito. Prima notte completata di FNAF 3 su Switch. E ci sono pure i minigiochi. Oh mio Dio, raga. Sì. Andiamo, Freddy Fazbear. Non mi ricordo più da che parte bisogna andare. Freddy, sei lento come una lumaca. Shadow Freddy, seguimi. Andiamo a vedere un po' che cosa vuole Shadow Freddy mentre ci abbatte, maledette, sono qua. Puoi muoverti da nazione, è più veloce. Ho detto, vai più veloce da nazione. Ah, giusto. Grazie, Purple Guy. Ok, gente. Dov'è che è? È qui, vero? È qui Springtrap. Dai. Dai, ragazzi, è sicuramente qua da qualche parte. Dov'è? Ecco Springtrap. Sulla mia TV, ragazzi. È una figata. Potrebbe, per favore, tornare indietro? Grazie. È molto gentile Springtrap. Lei è gentilissimo. Ok, chiudi già qua. Ragazzi, attenzione, eh. Occhio, raga, perché qua c'è rischio. No, Springtrap torna indietro, va. Ah, 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 ah. Mamma mia, gente. Mamma mia, che roba. Oh, no, video error. Mettiamo a posto la camera system, dai. Yes. Ora, dov'è Springtrap? No. Dove cazzo è Springtrap? Torna qua. No, l'audio error no. Audio error no, per favore, eh. Oh, porca. Phantom Balloon Boy. No, adesso dov'è Springtrap? Non l'ho visto. Raga. Raga, ho perso di vista Springtrap. Ho perso di vista Springtrap, raga. No, 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 eh. Dove cazzo è Springtrap? Hi. Raga. Springtrap, non fare scherzi. Do. Ok, è qua, è qua, è qua. Oh, vediamo un po' se ce la facciamo, eh. No, porca vacca. Camera system. Non va per niente bene. Muoviti. Dov'è? È nei condotti. Non è nei condotti. Dov'è che è allora? Eh, no. Springtrap? No, è nei condotti, merda. Ah. Ah, bene. Grazie. Eh, raga, sentite? La musica è diversa, non è l'originale. Ok, quindi questo è tutto per questo video di Five Nights at Freddy's 3 su Switch e ciao ciao. Ciao.